Una manovra da 90 milioni di euro concentrata sulla semplificazione amministrativa e procedimentale indispensabile per l'utilizzo dei fondi del PNRR e per la sburocratizzazione dei servizi ai cittadini per garantire sostegno alle politiche regionali per le fasce sociali più deboli e vulnerabili, per garantire il diritto allo studio ma anche allo sport, il trasporto scolastico gratuito, il servizio civile, fondi per le vittime ed incidenti stradali per le donne vittime di violenza, misure per garantire parità di genere retributiva e occupazionale per lo sviluppo del sistema agroalimentare e per la cultura. Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato a maggioranza la manovra di bilancio per il prossimo triennio, il bilancio di previsione del Consiglio regionale, le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2022-2024, legge di stabilità regionale per il 2022, il disegno di legge di bilancio di previsione finanziaria per il triennio. Una manovra obbligata ma coraggiosa che ha puntato sulla salvaguardia delle fasce deboli, ha dichiarato Franco Picarone, presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, sulla rimodulazione progressiva dell'addizionale regionale all'IRPEF. Un giorno importante perché io lo leggo al risanamento definitivo e strutturale dei conti, di equilibrio tra entrate e uscite, tra costi e spesa. Ed è un giorno definitivo in cui possiamo dire al mondo che la Regione ha i conti a posto e questo lo hanno capito anche le agenzie di rating. Questo significa che la Regione può fare i concorsi interni, può assumere, può mobilitare i servizi, però io credo che non vada sottaciuta una parte di questa legge di stabilità. Tutte le norme di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi che fanno risparmiare ben 900 ore oppure quelle in materia urbanistica che serviranno per poter spendere bene e rapidamente i fondi del PNRR e della programmazione unitaria dei fondi europei. Penso che anche questo vada sottolineato. Per il resto abbiamo introdotto progressività, abbiamo mantenuto tutti i capisaldi delle politiche verso le fasce deboli, il trasporto gratuito agli studenti, l'accesso per i minori agli sport e alle attività sportive, il fondo per le disabilità, il dopo di noi, le donne vittime di violenza di genere. Tutte queste cose sono rimaste e sono quelle che abbiamo introdotto noi in questi cinque anni. È una manovra che fa il conto anche sul fatto che abbiamo fatto emergere 5 miliardi e mezzo di disavanzi pregressi alle nostre gestioni che dobbiamo pagare con una rata di 200 milioni e che non corrisponde a nessun'altra manovra di pari importo. Anzi, con questa manovra, ripeto, abbiamo chiuso la partita strutturale. Non avevamo alternative. Chi dice che avevamo alternative significa che ci invitava ad operare come i nostri predecessori, che non avevano approvati i bilanci dal 2012, quando noi siamo arrivati nel 2016 e non avevano fatto emergere i disavanzi di questi bilanci. Va detto che nei nostri bilanci dal 2016 ad oggi non abbiamo prodotto manco un euro di disavanza. Questo dimostra una politica estremamente virtuosa. Grazie a tutti.